Ci sono due tipologie di atleti nel mondo, chi non crede che esista la connessione mente-muscolo e chi invece sa allenarsi. Questa è una frase che ho scritto su Instagram un po' di tempo fa e voglio spiegarla con l'occasione, quindi oggi parleremo di connessione mente-muscolo. Che cos'è la connessione mente-muscolo? Perché è importante, esiste davvero questo fenomeno. Prima di iniziare però ragazzi ricordatevi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche, per non perdervi nessun video, stiamo costando tantissimo, quindi assolutamente sarebbe un peccato. Per voi non costa niente ma a noi dà veramente una grandissima mano. Connessione mente-muscolo. Allora, generalmente cosa si intende per connessione mente-muscolo? È quella capacità ideale, ok, che viene presentata così, quella capacità di connettersi, agganciarsi al massimo al muscolo, attivarlo al massimo, massimizzarlo nella partecipazione e quindi stimolarlo di più. Questa è un po' l'idea. È un'idea che è vera, però anche posta in qualche modo male, perché c'è come l'idea che ci sia un modo per potenziare quella che è un'attivazione muscolare, che generalmente non si può, cioè nel senso il muscolo è, facciamola semplice, attivo o non attivo, ok, non è proprio così, però una volta che io faccio partecipare il muscolo a un schema motorio non è che posso potenziarlo più di tanto, è un po' diversa come questione. Realmente che cos'è la connessione mente-muscolo? È la capacità in uno schema motorio di andare a ridurre la partecipazione di tutti i distretti che non ci interessa stimolare. Quindi vedete all'opposto? Cioè io quando faccio uno schema motorio e diseguo uno schema motorio con una massima partecipazione, una massima connessione mente-muscolo, io in realtà sto caricando meno. E tu dici, scusa, ma se io potenzio l'azione di muscolo dovrei caricare di più? No, io non sto potenziando l'azione di muscolo, io sto togliendo dal gioco altri. Quindi paradossalmente il discorso della connessione mente-muscolo funziona un po' come il giochetto del non pensare a un elefante, e tu stai pensando a un elefante. Cioè concentrarci così tanto sul distretto target da escludere gli altri distretti muscolari il più possibile, logicamente, e quindi arrivare al fatto che il distretto target è quasi l'unico lavoro. Perché gli altri aiutano poco? Perché? Perché non ci sto assolutamente pensando. Perché la testa sta tutta là. Quindi capite, non è un massimizzare l'attivazione, massimizzare lo stimolo sì, adesso ci arriveremo, però è piuttosto un escludere il più possibile gli altri distretti muscolari. Un esempio semplice per provarlo, avete mai fatto le scale, quindi lo Stairmaster, concentrandovi tanto sul gluteo? Avete fatto quelle scale in cui voi normalmente salite le scale e poi dici, prova a dare più enfasi al gluteo. Voi andate ed è, improvvisamente salire le scale diventa difficilissimo. Perché? Perché state togliendo tensione dagli altri distretti muscolari. Ed è una cosa che possiamo fare, ed è stata anche testimoniata in ricerca, tant'è che sono uscite le ricerche anni fa, che sono state anche fortemente criticate perché erano tipo all'epoca le ricerche dell'ovvio, cioè prendevano i partecipanti, gli dicevano, ok, fai l'esercizio, adesso fallo e concentrati più sul distretto target. E automaticamente vedevano che c'era una maggiore attivazione elettromiografica, bla bla bla, una diversa concentrazione percentuale, eccetera. hanno detto, vabbè, grazie a cavolo, ti concentri più, è logico. Però adesso questo discorso di connessione, mentre lo scorso si sta un po' criticando. Ora, il perché si critichi, personalmente io non lo capisco, perché non si dà una ragione, semplicemente se ne nega l'esistenza. Però qua è la mia frase, diciamo provocatoria, paradossale, nasce. Se ti sai allenare, sono cose di cui hai avuto esperienza. Se ne hai avuto esperienza, non puoi negarne l'esistenza. Ora, logicamente non stiamo parlando di cramping o squeeze, cioè non è che ti dico se strizzi tanto il quadricipite, ecco che hai connessione di mente muscola. No, si tratta proprio di riuscire a fare uno stacco a gambe simitesi, un esercizio sinergico, e sentire il gluteo da quando stacco a quando arrivo in alto. Cioè, quando stacco sento proprio che è il gluteo che fa partire il movimento. Quando inizio a scendere in eccentrica sento il gluteo che si tira su tutto là, sento quasi esclusivamente il gluteo. E 60 kg, 100 kg, 120 kg diventano un'infinità veramente pesantissimi. Il giorno dopo ho DOMS soltanto ai glutei. Non sento i femorali, non sento il basso schiena, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la connessione mente muscolo. Ora, una cosa importante che va capita in sinergia è il discorso, ma se io cambio la percentuale di intervento dei diversi distretti muscolari, teoricamente lo schiena motorio non dovrebbe cambiare. Il fatto è questo, cioè se io vedo uno schiena motorio, io teoricamente so già qual è la percentuale di intervento dei distretti muscolari, non è che può cambiare a parità di schiena motorio. In realtà sì. E questo perché vi faccio un esempio e per farlo prendo il nostro BAS. Ora, immaginate che qua c'è il nostro BAS, ok? Mettiamolo così. Qua c'è il braccio, non so quanto si veda, cerco di metterlo abbastanza vicino alla camera. Qua c'è il braccio, ok? Del nostro BAS. Non immaginate, non ragionate sull'anatomia del corpo, ok? Ragioniamo soltanto che questo è un sistema che è vincolato, perché logicamente non è che posso piegarlo come se fosse gomma. Se io vado a fare una pressione in questa direzione, quindi in alto, ok? Si muove in un certo modo. Se io vado a fare una direzione leggermente in questa direzione, si muove nello stesso modo. Se vado leggermente in questa direzione, mi si sta muovendo nello stesso modo. Cioè, io non importa la direzione che prendo, visto che è un sistema che è vincolato, allora questa mano, questo braccio, eccetera, si scarica, si muove nello stesso modo. Perché? Perché semplicemente io di base sto premendo qua, poi se premo di qua, di là, in realtà ci sono le componenti vettoriali orizzontali che si scaricano sul sistema e si muove nello stesso modo. È lo stesso motivo per cui in una Smith Machine, se io spingo in alto, o spingo leggermente in avanti, o spingo leggermente indietro, quello è un carrello, cioè si muove sempre in alto e in basso, non è che si muove. Più o meno il discorso è quello. Cioè, quando io ho uno schema motorio in cui, logicamente, c'è un intervento, non è che mi scollego i muscoli, ma c'è un intervento di diversi estretti muscolari che stabilizzano e c'è un'articolazione che, non è che le ossa me le rompo, me le riaggancio, eccetera, se la partecipazione di un muscolo è inferiore, la partecipazione di un muscolo è maggiore, di nuovo, non è che se spegne e si accende, sono percentuali, ok? Quindi, percentuale un po' più alta, un po' più bassa, lo schema motorio rimane assolutamente inalterato. Quello che cambia è la percezione del carico. Cioè, se io tolgo roba, là vuol dire che c'è un muscolo che si sobbarca più lavoro. Quindi, arriviamo al punto finale di questa connessione di mente muscoli. Innanzitutto, ci dovrebbe essere un bello specchietto su cui io dico come ottenere connessione di mente muscoli, come migliorarla. Realmente ci vuole tanta esperienza, tanta attività in sala. E tanto, io vi dico proprio la cosa più semplice del mondo. Studiatevi l'anatomia. Studiatevi l'anatomia di un distretto, cioè il distretto che fa, che cosa muove, come si muove, come sono orientate le fibre muscolari, ok? Quando fate l'esercizio, concentratevi su quel distretto, concentratevi sull'anatomia, non pensate a niente, e già questo vedrete che migliora veramente tanto. E poi, ci vogliono anni e anni di attività, di esperienza. Cioè, non è un qualcosa che potete far così. Cioè, vado, ah ok, allora mi concentro un po' di più e sento la connessione di mente muscoli. No, no, ci vogliono veramente tante esperienze, tanti tanti anni, per riuscire a massimizzarla. Per cui questo è un po' il discorso. Ma qual è il vantaggio poi, in ultimo, perché io dico si sa allenare, non si sa allenare. Ti devi sapere allenare per sentire la connessione di mente muscolo, e devi raggiungerlo come obiettivo. Cioè, se tu dici, guarda, non esiste la connessione di mente muscolo, non la sento, non ti sai allenare in un'ottica bodybuilding. Perché? Perché l'allenamento per il bodybuilding si basa su un principio molto semplice, ossia rendere uno schema motorio quanto più complesso possibile per il distretto target. e si dice spesso che il bodybuilding è una gara a chi solleva meno. Cioè, se io, per esprimere un certo tipo di stimolo al quadricipite, ho 400 kg di pressa e tu ne hai 600, io sono avvantaggiato. È una gara a chi solleva meno, in questo senso. Logicamente provocatorio come cosa. Però c'è questo fondo di verità. Aiuta a far riflettere alla prospettiva che dovremmo avere. Quindi, capite bene come si solleva meno. Non l'ho detto prima, se io tolgo alcuni distretti dal gioco, e mi concentro su distretto target, ci sarà una maggiore connessione. Che è anche il motivo per cui, per esempio, Milos Sarcev, quando si parlava tanto del chasing the log, dell'utilizzo del logbook, lui aveva fatto una provocazione. Aveva detto, io agli atleti gli dico il contrario. Dico, guarda, hai fatto sulla leg extension, non so, 12 ripetizioni con quel carico? Perfetto, adesso vai e punta a farne di meno. Senza lavorare sul tempo, senza rallentare. Cioè, sempre la stessa cadenza, ma cerca di riuscire a farne meno. Arrivare a cedimento con meno, ma come faccio? Teoricamente progredisco. E con la connessione del muscolo, cioè riuscendo a focalizzare. Poi magari sono una leg extension difficile, perché è molto isolamento. Per esempio, sugli stacchi, io ti faccio questa scommessa. Quanto c'hai di stacco, loading set, lo fai su 200 kg, 220, 250, 180, non lo so. Ok, prova a farlo con la metà del tuo carico. 8-10 rip con la metà del tuo carico, concentrandoti soltanto sui glutei. Immaginandoti, non di portare il bilanciare in basso e in alto, ma immaginandoti di portare il sedere indietro e in avanti, quindi forzando l'ip hinge. Quando sali, quando stacchi, ti concentri sul gluteo, fai partire proprio la contrazione del gluteo, e immagini come se stessi facendo un hip thrust. Quindi stai un hip thrust, logicamente non stai piegato, però l'hip thrust che cosa faccio? Vado in retroversione e vado a strizzolare il gluteo. Prova a fare questo. E prova a raggiungere un cedimento vero, che è proprio raggiungere il cedimento sulle, sempre 8-10 ripetizioni, quindi come un load in set, ma con la metà del carico. Vediamo se ci riesci, cerca di farlo, vedrai che ponendoti questo come obiettivo ti cambia tutto, e l'unica spiegazione che dai, sentendo, è cazzo connessione mentre muscolo. Cioè sto togliendo roba dal gioco, il lavoro, l'esercizio è meno sistemico, è più specifico per cosa? Per il distretto target. Poi quanto è importante avere una specificità di intervento di un distretto muscolare, o meno, o più sinergia, logicamente dipende dal contesto, non è che gli stacchi debbano essere fatti sempre così, alcune volte voglio i femorali, alcune volte voglio lavorare tutta la catena posteriore, però è importante saperlo fare nel momento in cui ce n'è bisogno. Nel bodybuilding generalmente ce n'è spesso bisogno, quindi questa è una piccola sfida che ti lancio. Per il resto io ti ricordo, iscriviti qua su YouTube, e seguimi su Instagram, ludovico.lem, perché posto veramente tantissime cose, per il resto qualsiasi domanda qua sotto sarò ben liato di rispondere, e noi ci vediamo nel prossimo video.